Cresce l'emergenza abitativa a Teramo, gli sgomberi sono arrivati a quota 500, le aree più colpite sono quelle periferiche. Una soprattutto che, con il passare dei giorni, sta diventando un quartiere fantasma. Si tratta di Collaterrato, zona gran parte occupata dalle palazzine popolari, oltre 120 le famiglie rimasse senza casa. Per molti di loro è un dramma, oltre l'incertezza sul futuro, il problema principale sono i soldi. Gli sfollati hanno diritto al contributo di autonoma sistemazione per pagare l'affitto di altri alloggi, ma i fondi della protezione civile non arriveranno subito, pertanto le famiglie sfollate dovranno anticipare le spese. I primi rimborsi saranno distribuiti con i 250.000 euro ottenuti nei giorni scorsi dal Comune, destinati a coprire i costi della prima emergenza, ma la somma non basterà a saldare il conto di tutte le famiglie costrette a traslocare. Ad oggi sono 500 le ordinanze di sgombero firmate dal Sindaco in un mese e mezzo di controlli successivi al sisma. Solo nella giornata di ieri sono stati 7 i provvedimenti firmati, 11 le famiglie obbligate a lasciare le loro abitazioni. E le ordinanze di sgombero sono in crescita anche nei Comuni dell'Entroterra. Nel Comune di Cortino sono state emesse 280 ordinanze. A Rocca Santa Maria sono 85, con ancora 82 sopralluoghi da effettuare. A Tossicia le ordinanze sono 140 e le verifiche non sono ancora terminate. 80 sfollati a Castelli, dove molte attività del borgo, botteghe artigiane, hanno dovuto chiudere. Intanto, con il via libera dell'Aula di Montecitorio, la Camera dei Deputati ha definitivamente convertito in legge il decreto sul terremoto. I centri abruzzesi del cratere sono 14, 11 in provincia di Teramo, Campli, Castelli, Civitella del Tronto, Cortino, Crognaleto, Montorio, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana, oltre a Teramo Città, e 3 in provincia di L'Aquila, Montereale, Campotosso e Capitignano. Nel decreto, contributi a privati e imprese, sospensione per sei mesi dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze, energia elettrica, acqua, gas e il canone RAI. Inoltre, è prevista la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi ai singoli soggetti danneggiati fiscalmente domiciliati nei comuni del cratere. In ognuna delle regioni colpite è prevista l'istituzione di un ufficio speciale per la ricostruzione. La sede abruzzese dovrebbe essere a Teramo. La regione Abruzzo, inoltre, si è impegnata ad aiutare anche i comuni terremotati del Teramano e dell'Aquilano che non sono rientrati nel cratere sismico.